Ciao a tutti e bentornati in questo Lorenzo Daily Update Se sono vestito come nello scorso video è perché sto registrando i video nello stesso giorno Ma comunque oggi parliamo di contatti con l'Italia Io anche quando sono in Italia non sento il bisogno di scrivere constantemente a un mio amico Che magari vedo la mattina o che devo trovarmi il pomeriggio Gli scrivo solo se ci dobbiamo incontrare, dobbiamo uscire, dobbiamo andare da qualche parte Quindi qui in Germania sì ovviamente mi sento con i miei amici Ma non così spesso perché vi consiglio se siete andati all'estero Concentratevi molto sulla vita che avete qui E non diciamo dimenticatela quella che avete in Italia Ma date più importanza a quella che avete qui Perché qui le persone le vedete faccia a faccia e in Italia sono solo attraverso uno schermo E comunque li sento diciamo una volta a settimana non di più Invece stessa cosa vale per i miei genitori che ogni tanto ci mandiamo qualche foto, qualche messaggio Ma spesso, ma sempre, ci sentiamo su Skype il venerdì diciamo E così teniamo i contatti Mi piace molto quando chiamo i miei genitori perché mi raccontano un attimo come è la situazione là Io gli racconto cosa succede Poi c'è sempre mia mamma che mi fa le domande della scuola E basta E diciamo che loro mi mancano ma no Mi piacerebbe ovviamente rivederli ma qui mi sto passando un bellissimo anno E ho conosciuto tantissime nuove persone gentili e disponibili Quindi ci sono dei momenti in cui vorrei vedere i miei amici Vedere mia mamma, vedere mio papà, vedere mia sorella E starci assieme un po' di giorni Ma sono consapevole di aver fatto questa scelta l'anno scorso E quindi voglio portare questa esperienza fino al termine Se volete farmi un'altra domanda scrivetela qua sotto con l'hashtag LorenzoDailyUpdate Per forse ricevere una risposta nel prossimo video di martedì, mercoledì o giovedì Quindi ci vediamo noi al prossimo video